Nei locali della Torre Civica di Palazzo Mamiani a Sant'Angelo e Lizzola è stato presentato uno spazio dedicato alla cultura denominato Torre dell'Arte Contemporanea di Vallefoglia. La nuova area che si affianca ed integra la sede della biblioteca a servizio anche delle frazioni di Monte Ciccardo e Ginestreto sarà a disposizione di tutti gli appassionati, i curiosi, gli studiosi che potranno visionare volumi e documenti per avvicinarsi all'arte, attivare laboratori e approfondire le varie materie in campo culturale. Il comune di Vallefoglia, come precisa il sindaco, ha istituito la nuova biblioteca in collaborazione con l'associazione Etra che ha elaborato il progetto, fornito i volumi e allestito lo spazio insieme alla Proloco Cittadina. Nel primo piano della Torre Civica sarà esposta anche un'opera d'arte contemporanea realizzata in occasione del Rossini Opera Festival. L'associazione degli artisti facente capo all'ex Galleria Mancini presterà per due anni questa importante figura che costituirà il punto di partenza di laboratori, workshop e visite rivolte a persone di tutte le età. Un luogo e un modo per valorizzare la lettura, di valorizzare le radici storiche, valorizzare l'enogastronomia, il paesaggio, le attività culturali, teatrali e musicali. La collaborazione tra l'associazione Etra e l'amministrazione di Vallefoglia, spiegato il primo cittadino, si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, in particolare attraverso l'istituzione del Museo delle Muse e delle Ninfe al centro Giovanni Santi di Colbordolo e la realizzazione di tante iniziative che hanno portato alla scoperta delle bellezze del comune. Con questo nuovo progetto si rafforza e si arricchisce il nostro territorio. Apriremo il prossimo anno il nuovo teatro Giovanni Santi di 330 posti a Bottega di Vallefoglia. Quest'anno è l'anno dell'inaugurazione del nuovo municipio che realizzeremo a Montecchio e Palazzo Momiani dove abbiamo aperto questo pezzo di biblioteca sull'arte contemporanea, specializzata, specifica che ci consente di rapportarci anche con l'Accademica di Urbino. L'Accademia di Urbino è per noi importante perché Sant'Angelo nella storia, un po' anche come col Bordolo, con Giovanni Santi, Montefabri, con i Conte Paciotti e i rapporti che aveva con Federico, insomma valorizzare una città industriale che però ha anche tanto ambiente, tanta cultura, tanta storia e tanta prospettiva futura soprattutto per le nuove generazioni.